Rieti ricorda le vittime del terremoto dell'Aquila del 6 aprile. Nel sisma del 2009 persero la vita anche tra i cittadini reatini ed altri residenti della nostra regione. Nel pomeriggio la commemorazione nei pressi del monumento dedicato nel parco di Via Liberato di Benedetto. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Michela, Valentina e Luca insieme al sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi al prefetto.